Colpo di mercato del Lions Mons Millitum arriva il difensore classe 1998 Gabriele Iodicex di Vastese Nocerina Grotta e Declanese ha militato nel settore giovanile del Benevento. L'ex attaccante della Virtus Avellino Mario Merola ha firmato per il San Marzano. Il bomber che appena lasciato Angri ha deciso di accettare la corte del tecnico Francesco Messina. Scendendo nel campionato di promozione il Montoro ha ufficializzato Nicola Casaburi, il direttore sportivo Carmine Nocera piazza il colpo in attacco e si aggiudica le prestazioni sportive del centroavanti classe 1993 che ha indossato le maglie di Salernitana, Cavese, Nocerina e Bolitana. In questa durata tre anni successivamente ha militato sempre nei campionati di eccellenza e promozione con Lago Negro, Picciolo, Olympic, Salerno, F. Ciavellino, Serino, Montella, Giffonese, Sanseverinese e Temeraria. Con lui si aggiunge una nuova freccia all'attacco di Gioquinto. In prima categoria inarrestabile il Parco Aquilone alla corte di mister Francesco Remigetto è arrivato Giovanni Iandoli classe 1985 ex Falchi Rossi e Marco Iano.